Ciao, sto per presentarti un'ottima opportunità di locazione ideale per studenti in zona Polini, quindi Politecnico di Milano, Bovisa, a meno di 10 minuti a piedi dall'università, con tutti i negozi, tutti i servizi, voglio darti il gusto, il flavor dell'abitazione, target assolutamente ai studenti. Ebbene, entrando abbiamo un corridoio, abbiamo un divanetto con lo specchio, con dei mobiletti. Dall'ingresso abbiamo una prima stanza, singola, con un letto matrimoniale, infissi nuovi, aria condizionata, come vedi ancora da ultimare, ma a breve lo sarà. Abbiamo la cucina che sarà poi il luogo comune, c'è già frigorifero, quindi insomma manca veramente poco. Abbiamo poi un comodo bagno con una bellissima doccia, veramente molto ampia, guarda quanto è grande, con i suoi sanitari, manca la lavatrice, ma come vi dici già l'attacco. Qui abbiamo un po' di lavoro in corso, ma comunque è già abbastanza a buon punto. Ci sono i letti nuovi, là ci sono comunque gli attacchi per la tv, in fisso nuovo ci saranno due schivanie, qui il plafone a posto, aria condizionata. Sono in cucina, vi voglio farvi vedere il pezzo forte, a cui accedi appunto dalla cucina dove c'è una porta di mestra e hai una tua area di proprietà completamente indipendente.